Con la firma dell'ordinanza con la quale il Ministro della Salute e Speranza ha decretato zona rossa alle regioni Toscana e Campania, interviene il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Premesso che la mia cultura istituzionale mi porta ad accettare quanto a valore di legge, ritengo, se la notizia risponde al vero, e cioè che il Ministro della Salute abbia informato il sindaco di Napoli che la Campania e non Napoli sarà zona rossa, questa forma di comunicazione è un atto scorretto istituzionalmente. O il ministro telefonava a Lanci Campania o ai sindaci dei comuni capoluogo, oppure non si comprende la ragione di questo improprio e maleducato modo di fare. Che Benevento, che ieri non ha avuto nessun morto, sia zona rossa come Napoli, la ritengo una scelta improvvida ed immotivata, continua Clemente Mastella. Dica il Ministro della Salute da quali dati scientifici trae l'indicazione di zona rossa per Benevento. Il suo consulente, il professore Ricciardi, che ne capisce di certo più di lui, aveva infatti ipotizzato per la Campania una strada diversa e chirurgica. Napoli zona rossa, altre aree no. L'unica scelta da fare che i vari organismi statuali e non suggeriscono è quella di utilizzare i soldi del MES che la pavidità e l'ideologismo dei 5 Stelle non consentono. Quanto a me, conclude Mastella, obbedisco alle regole dello Stato, ma non condivido nulla di quanto si è verificato d'oggi e di quanto si sta verificando in questa seconda fase del Covid. Noi siamo qui stamattina unitariamente, in quanto siamo all'interno di tutto questo percorso, del percorso nazionale. Oggi in tutta Italia, in realtà, nelle realtà significative più esposte dal punto di vista sanitario, abbiamo messo in piedi questa iniziativa con tre, diciamo, matrici fondamentali. Quella dell'esigenza di dar luogo a concorsi pubblici per sopperire alla carenza che è quanto mai evidente in questi giorni di pandemia e quindi per il reclutamento di personale che sia personale medico, sanitario e parasanitario e per il rinnovo dei contratti nazionali che, diciamo, sono, come sapete, ormai scaduti, che vanno rinnovati e che sono uno strumento di riconoscimento della professionalità e del rischio, quanto mai sotto gli occhi di tutti, che oggi tutto il personale della sanità pubblica, in particolare, ma anche accreditata, sta subendo. Quindi è per noi un momento di gratificazione e di riconoscimento che chiediamo al Governo di mettere in piedi e quindi di avviare la trattativa a livello nazionale. Poi il tema centrale della sicurezza. Ovviamente ci tocca a tutti, su tutte le singole realtà, noi stamattina qui siamo al Rummo, scusatemi al Sampio, che è ovviamente il punto di riferimento del nostro territorio provinciale. Dobbiamo dire che è una realtà che, dal punto di quello che a noi costa, diciamo, ogni giorno verificare, in qualche modo si è attrezzato per affrontare l'emergenza. Abbiamo, diciamo, una copertura in termini di DP e quindi di dispositivi sulla sicurezza per i lavoratori che vengono abbastanza garantiti con, diciamo, la tempistica dovuta. Abbiamo il personale che è scrinato, tamponato periodicamente e che quindi, diciamo, non lamenta grosse criticità da questo punto di vista. Certo è che si potrebbe ovviamente sempre migliorare, allestire, per esempio, dei percorsi un po' più meglio definiti di separazione, diciamo, tra Covid e non, per cui noi siamo in dialogo costante con l'amministrazione per poter costruire dei percorsi e garantire la migliore sanità possibile a questo territorio e ai cittadini di tutta la regione che stanno avvalendosi anche della nostra struttura. Non è solo questa, sapete, anche le altre realtà, diciamo, della sanità convenzionata stanno dando il loro contributo, come la regione ha chiesto. Quindi oggi per noi è più un presidiare per chiedere che le condizioni siano le migliori possibili. Sappiamo che nello specifico, per esempio, l'ospedale si sta attrezzando a reclutare ulteriori infermieri. È una cosa che ovviamente interessa tutto il personale. Noi abbiamo chiesto che ci sia un reclutamento di tutte le figure professionali e quindi gli ausiliari, gli OSS, i medici e gli infermieri. L'ASD altrettanto abbiamo notizia di procedure che sono in corso coperte con questi fondi Covid. Quindi ci auguriamo che il tutto sia, come dire, nei sensi dell'utilità il prima possibile. Ovviamente il territorio sconta dei ritardi, devo dire, in termini, diciamo, di presenza della medicina del territorio, in termini di gestione della macchina, dei tamponi sul fronte ASD. Onestamente, diciamo, si poteva fare qualcosa in più in estate e non si è fatto, ma non si è fatto a livello nazionale. Non vuole essere una scusante perché ognuno ha le proprie responsabilità di governo del territorio, però insomma avremmo forse, come dire, potuto fare qualcosa in più da questo punto di vista. Quindi il senso è, muoviamoci, visto che siamo comunque sempre in tempo per salvare delle vite umane, fondamentalmente. Noi siamo qua davanti all'ospedale San Pio, ho organizzato questo presidio insieme ai colleghi, tutte e tre sigle sindacali, nazionali, per un semplice motivo, motivo molto molto importante, per la sicurezza dei lavoratori e per un piano di assunzione speciale. Cioè cosa significa? La prima cosa è il piano di sicurezza per i lavoratori quando riguarda i presidi, per quanto riguarda i tamponi temporaneamente, per quanto riguarda il piano di assunzioni speciali, parliamo di assunzioni stabilizzate, senza i precari di stabilizzarli, scorre le graduatorie, stabilizzare i precari, una cosa importante. Per quanto riguarda, che ci vengono a dire che fanno delle assunzioni, delle delibere a tre mesi, per quanto riguarda queste situazioni, se un infermiere deve venire qua a lavorare, a tamponare un problema così serio, quando riguarda il Covid-19 e poi uscire fuori dopo tre mesi, magari rischiando la vita, questo non mi sembra proprio una cosa fatta bene. A questo punto noi abbiamo chiesto pure di fare delle assunzioni a 18 mesi, a 24 mesi, perché con la possibilità dopo di rimanere, di fare dei contratti a tempo indeterminato, perché questa mi sembra la cosa più importante. Per quanto riguarda, ci sono dei problemi delle strutture ospedali, degli operatori, infermieri, operatori della sanità, che finiscono il turno e non possono andare via, perché non hanno il cambio. Questa mi sembra una cosa proprio fatta disumana, perché continuano a fare, ci montano da una notte e continuano a fare altre sette ore di turno, oppure fanno 12 ore, 13 ore continuate. Vuol dire questo che diventa una cosa massacrante per loro. E chi soccompra, al di là degli operatori della sanità, ma soccorrono soprattutto i pazienti, perché incomincia a mancare l'assistenza. Perché quando uno si incomincia a stare 12 o 13 ore in un ospedale, incomincia a mancare l'assistenza, incomincia mai la stanchezza, non è più lucido. Per questo noi chiediamo questo piano di assunzioni speciali. Quello che hanno illustrato un po' i segretari della CGL e della UIL è quello che è un po' il landazzo, tra virgolette, a livello nazionale. Le tematiche di oggi sono quelle del contratto, ma quella è una tematica che riveste un aspetto nazionale. Le cose che più ci interessano dal vicino sono quelle delle assunzioni e della sicurezza. E certo, la cronica carenza che si è sempre registrata negli anni, anche nel nostro ospedale, oggi con la pandemia è diventata ancora più critica, nel senso che lamentiamo sicuramente carenze di personale sotto tutti i profili, sia quello medico, infermieristico, di operatore socio-sanitario e di ausiliari. C'è da dire che riusciamo nella nostra struttura ancora oggi a tenere testa a questa fase di questa emergenza e diciamo che ancora non siamo arrivati ad una situazione critica in cui non c'è la possibilità di poter dare un cambio turno. Però questa situazione, permanente tale, sicuramente porterà anche a noi in una situazione critica del genere. Quindi c'è la forte necessità di vedere come fare per assumere infermieri, OSS, ausiliari, stabilizzare i precari che ci sono in tutte le aziende come ci sono anche nella nostra azienda. Questo sembrerebbe il momento più opportuno per stabilizzare queste persone che da un bel po' di tempo lavorano nella nostra azienda e quindi in questo momento a maggior ragione ci potrebbe essere questa fase di stabilizzazione. Dopo il video pubblicato l'altro giorno sui social, diventato poi virale che ritraeva la morte di un paziente all'interno del bagno del Cardarelli, mobilitazione quest'oggi dei sindacati all'interno della struttura ospedaliera napoletana. L'iniziativa nasce a margine di un'altra iniziativa, una mobilitazione promossa dalla trea dei sindacali dal titolo pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini. Questo lo slogan dell'iniziativa promossa da FIPCGL, CISL, FP, WIL, FIPL, WIL, PA, andata in scena stamane davanti agli ospedali e i luoghi simbolo di diverse città italiane. A Napoli, come detto, la manifestazione aveva un'iniziativa collaterale, quella di difendere i lavoratori dell'ospedale Cardarelli di Napoli, nelle ultime 24 ore bersagliati da tantissimi haters sui social. Un'iniziativa che segue lo stato di agitazione già proclamato dalle categorie nelle settimane scorse ma che oggi assume carattere particolare. Ecco il commento dei sindacati ai nostri microfoni. È chiaro che quelle immagini indignano ma è chiaro che sono la dimostrazione di un collasso del servizio sanitario. Nel momento in cui salta la prima linea fatta dal territorio è normale che tutti si riversano in pronto soccorso e con l'attuale dotazione organica è complicato riuscire a gestire una tale mole di lavoro. Quella sera in pronto soccorso al Cardarelli c'erano circa 140 pazienti con un personale che si attestava tra infermieri tra i 10 e i 13 e i medici 4 medici, per cui diventa complicato gestire una tale mole di lavoro. Tanto lavoro, c'è tanta disorganizzazione e c'è pochissimo personale. Personale stressato è sotto ritmo e quindi chiaramente non riesce a seguire tutti i cittadini che stanno ricoverati in questa fase nelle aziende. C'è poca diversità fra Covid e non Covid. Noi fra altre cose io appartengo a quella categoria di persone che non condannano chi ha fatto quel video. Io non lo condanno assolutamente no, che avrebbe potuto essere un mio parente, avrebbe potuto essere uno di noi che si è trovato in quella situazione e quindi quel video è servito a far uscire fuori quello che non è riuscito fino adesso. Tutta la disorganizzazione che c'è, fortunatamente finalmente, ci dispiace per quella persona ma sta uscendo fuori. Il pericolo vero è quello che riducendo i posti letti, perché si stanno riducendo i posti letti ordinari, l'assistenza ordinaria a chi verrà un malato cardiaco, un malato con ictus, dove andrà? Oggi la fortuna è avere il Covid perché vieni comunque assistito prontamente. Noi, Regione Campania, eravamo per chiudere tutto a ottobre. La posizione della Campania era questa, semplice, chiara, non facile da assumere. Ma la Campania ha sempre dichiarato che era meglio chiudere tutto per un mese per avere un'operazione di freno del contagio e per poter arrivare a Natale in condizioni di sostenibilità. Il governo ha fatto un'altra scelta, ha deciso di fare iniziative progressive, di prendere provvedimenti sminuzzati, facendo la scelta della cosiddetta risposta proporzionale. Più aumenta il contagio, più noi prendiamo provvedimenti. Una scelta totalmente sbagliata perché il contagio non aumenta in maniera lineare, uno più uno più uno, ma in maniera esponenziale. Questa scelta fatta dal governo ha fatto perdere per lo meno due mesi preziosi, nel corso dei quali abbiamo avuto un incremento drammatico dei contagi e anche dei decessi. Devo anche dirvi che l'unico esponente istituzionale che ha avuto il coraggio di assumere quella posizione è stato il presidente della regione Campania. Il governo invece ha deciso un'altra cosa, ha deciso che bisognava tenere aperte le scuole, ricordate le dichiarazioni dell'Azzolina, supportate dal presidente del Consiglio, adesso le hanno chiuse, cioè hanno fatto quello che la Campania ha fatto un mese fa e nessuno ha chiesto scusa perché nel frattempo abbiamo avuto migliaia di contagi in più nelle scuole. Abbiamo avuto l'Italia divisa in zone, una scelta scriteriata, abbiamo avuto una moltiplicazione di conflitti fra i territori e fra le categorie economiche, una situazione caotica derivante dalla scelta fatta dal governo che noi non abbiamo condiviso. Alla lista degli sciacalli si è aggiunto ieri un nome illustre di un eminente esponente politico, Campano, manco a dirlo, tale Luigi Di Maio. Luigi Di Maio era fra quelli che facevano la campagna elettorale un mese e mezzo fa contestando alla regione Campania il delitto di aver realizzato le terapie intensive, l'ospedale modulare nell'ospedale del mare a Caserta e a Salerno sprecando il denaro pubblico. Questo è un esponente di governo che avrebbe dovuto impegnarsi per fare arrivare il personale che manca. Questo era uno che voleva tenere il commissariamento della Campania. Provate a immaginare in queste condizioni. Se avessimo avuto il commissario avremmo fatto la fine peggio che la Calabria dove stanno facendo cose da pazzi i commissari di governo. E parla, e parla. Mi voglio fermare perché il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare, almeno per le prossime ore. Ho avuto modo di dire a qualche esponente del PD che se bisogna stare al governo con questi personaggi per quello che mi riguarda sarebbe meglio mandare a casa questo governo perché non è tollerabile nessun rapporto di collaborazione quando vi sono nel governo ministri alla spadafora che ha raccontato bestialità non più di una settimana fa o questo signore di cui ho fatto il nome. Ricordatevi che questo personaggio l'ho sfidato a un dibattito pubblico dove come quando vuole da anni. Rinnovo il mio invito a questo soggetto a fare un dibattito pubblico dove come quando vuole purché in diretta televisiva. Spero che non faccia il coniglio come ha fatto nei tre o quattro anni precedenti. Stesso invito rivolgo anche a qualche camorrologo di professione ormai milionario che però continua non solo a vestirsi come un carrettiere perché fa tendenza ma continua a parlare di cose di cui non capisce niente. Anche a questo signore rivolgo l'invito dove quando vuole a fare un dibattito sui temi della sanità campana. Allora come vedete siamo chiamati a lavorare in una condizione infame. Per quello che mi riguarda fatti salvi tre o quattro ministri questo non è un governo. Non voglio dirvi che cosa è ma per quello che mi riguarda sarebbe cento volte meglio anziché avere dilettanti allo sbaraglio avere un governo di unità nazionale di persone competenti per bene un governo del presidente che non produca il caos che è stato prodotto in Italia dall'opportunismo politico e dalle scelte sbagliate fatte dal governo. Quindi ho voluto chiarire anche ad altri esponenti politici che per quello che mi riguarda la volgarità lo sciacallaggio e la cafoneria sono incompatibili con rapporti di collaborazione di governo. In queste condizioni è meglio mandare a casa il governo per quello che mi riguarda. I dati di ieri con un aumento sensibile dell'attività di ricerca del virus mediante tamponi fotografano un covid stabilmente fermo a quota 4.000. Infatti erano 4.065 nuovi casi a fronte di 23.840 test eseguiti. Gli asintomatici erano 3.779, i sintomatici 286, 31 i deceduti calcolati tra il 7 e l'11 novembre, 645 i nuovi guariti. A ieri la dotazione dei posti letto di terapia intensiva in regione Campania è costituita dalla somma dei 590 posti letto realizzati pre-emergenza e dei nuovi covid hospital, 66 nuovi posti. Novità ad oggi per eseguire i tamponi in maniera privata. Ci sarà infatti obbligo di prescrizione medica per sottoporsi all'esame anche nei laboratori privati e quanto prevede una disposizione regionale inviata ai direttori delle ASL. Al fine di garantire maggiore appropriatezza dei percorsi di sanità pubblica, si legge nel tesso, si dispone che per poter effettuare il tampone per la ricerca SARS-CoV-2 presso un laboratorio privato, senza oneri a carico del servizio sanitario regionale, è necessaria la prescrizione del medico su ricetta bianca con l'indicazione dell'effettuazione della prescrizione. La sospensione del mercato settimanale è situato in corso Federici, la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione, alla chiusura di tutti i negozi, dopo le 14 il divieto di accesso alle spiagge presenti sul territorio comunale e ibi, compresa la scogliera. Sono alcuni dei provvedimenti adottati dal sindaco di Cetara, fortunato della Monica, lui stesso colpito dal Covid, considerato che nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevante di contagi da Covid-19, la maggior parte dei quali asintomatici. Il primo cittadino costiero ha deciso di prorogare e restringere ulteriormente le limitazioni sul territorio comunale. A Pellezzano il sindaco Francesco Morra piange una nuova vittima, un uomo residente a Casa Braca Capezzano. A Baronissi 160 contagi, il sindaco Gianfranco Valiante ha chiesto ai cittadini, anche se si rivolgono ai centri privati, di comunicare la positività per aiutare nella redazione della mappa del contagio. A Salerno il sindaco Napoli conferma la chiusura di due piazze, Piazza San Francesco e Piazza Abate Conforti, che vanno ad aggiungersi alla chiusura del lungomare nel fine settimana, rimarcando ai cittadini la necessità da parte di tutti di massima responsabilità di evitare e di limitare le uscite affinché si possa venire fuori presto da questa pandemia. Saranno vietate il lungomare, Piazza San Francesco dalle 5 alle 5 del giorno successivo, così come Piazza Abate Conforti, perché sappiamo che gli orari di assembramento sono quelli dopo le 5. Sono delle iniziative e dei provvedimenti che io definisco al contempo simbolici e funzionali, perché di fatto contribuiscono alla riduzione dell'assembramento del contagio, dall'altro sono simbolici perché danno il segnale ai miei concittadini che non siamo in una situazione tranquilla né normale, siamo in una situazione preoccupante. Nel mese di novembre, ai dati che mi vengono forminiti dai miei uffici, siamo a 256 contagi nel solo 13 giorni nel mese di novembre, mentre eravamo abituati ad andamenti molto più tranquillizzanti. La curva si sta impennando, dobbiamo essere tutti assolutamente severi con noi stessi, responsabili e fare in modo che i precetti che io recito ormai come un mantra, lavaggio delle mani, distanziamento sociale, evitare gli assembramenti, siano rispettati pedissequamente. Un particolare pensiero alle giovani e giovanissime generazioni che per la loro esuberanza sono portate naturalmente ad essere un po' più meno attente. Io mi prego questi giovani e giovanissimi di avere invece atteggiamenti all'altezza di una responsabilità che le loro capacità intellettuali possono garantire. I genitori devono svolgere la loro funzione genitoriale che non è vicariabile, non può essere trasferita a nessuno la responsabilità dei loro ragazzi, certamente non alle forze dell'ordine o ad altri. È un controllo materno e paterno che deve essere assidua, non repressivo ma di convincimento. I funzionari dell'agenzia Dogane Monopoli, insieme ai finanzieri della compagnia di Capodichino, nel corso di una serie di controlli effettuati su passeggeri in arrivo da Istanbul, hanno sequestrato oltre 400 capi di abbigliamento e accessori contraffatti di numerose note case di moda. I passeggeri giunti all'aeroporto con grandi bagagli e borsi da stiva, dove era stata occultata la merce contraffatta, al momento del controllo non sono stati in grado di produrre documentazione valida a prova dell'acquisto e dell'originalità dei prodotti. Il materiale sequestrato, composto principalmente da t-shirt, polo, jeans, giubbini, calzature, borse, marsupi e tracolle, era sprovvisto del packaging tipico dei grandi marchi per permettere ai soggetti di trasportare un maggior numero di pezzi. Consultati i periti delle società titolari dei marchi, questi hanno accertato la fedele imitazione degli originali, tale da trarre in inganno gli eventuali acquirenti finali. Gli articoli sono stati sequestrati, mentre gli autori dell'illecito 4 i responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per contraffazione e ricettazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti